Lo so, lo so, ma non stiamo a fare... non vado a copiare due volte. Io non riesco a andare avanti con questa mappa. Ah, sei fiera di me? Molto Valerio! Sei più fiera di me di Massimo? Che state facendo? Stiamo facendo la rete delle connessioni, delle connessioni in base ai vari sistemi che ci serviranno. Vediamo come sono collegati l'uno con l'altro e quale ha la priorità, diciamo. Se vuoi ti posso aiutare? Grazie.